Siamo Stéarica, siamo dall'Italia, da Torino e abbiamo giocato insieme da 1997. Siamo una meravigliosa banda, un trio italiano, Power Trio. Siamo molto suoni e assoluti. Altra è molto... Ci sono molte cose. È molto come un mix. È un mix di gianni, un mix di strumenti. Hai gitarre distruttive. Hai anche cello, saxofono, flute, piano. Ci sono cose ambientale, rock, jazz. Ci sono molte cose. Come ho detto prima, sono circa 10 anni giocando insieme a un record. In spagnolo, anche se lo conosco, è stato mirar... Non lo so. Più in là. No. In inglese è beyond. Massià. 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 Non lo so. In italiano è molto buono, perché stavamo cercando solo una parola per dare l'idea. E' anche una parola molto buona per le grafiche. E' un po' significo. Tutti prendono le queste figure. Tutti può dare la sua耳a come sempre l'oniscono. Per la nostra musica. Di loro non dimenticる tantouki. Perchéulturalmente tag�ano le loro teleprosti. del nostro lavoro. Abbiamo incontrato Sergio e le persone di Alouda a Monkey Week in ottobre e è stato molto bello perché abbiamo avuto due concerti a Monkey Week e dopo il primo Sergio è venuto a noi e ha detto che piacere il concerto e lo stesso per noi incontrando e parlare era come trovare una buona sensazione e un buon sentimento un buon sentimento tra Sergio e Sergio e in questi giorni siamo molto felici di essere qui con lui Sound of Barcelona Soundtrack Siamo in tour in Spagna in ottobre